Ciao ragazzi, oggi vi presento le mie mini Ghirlande realizzate con lievito madre. Dopo aver rinfrescato il lievito madre, lo inserisco all'interno della planetaria con l'acqua. L'avvio fino a che risulta una schiumetta, vedete che man mano, eccola qua. Ora inserisco gradatamente la farina, l'olio e il sale. Bene, ecco, risulta così. Ora vado a dargli dei giri, dove la vado a coprire con una pellicola, che la lascio riposare per 4-5 ore, fino al raddoppio in un posto caldo, ovviamente. Ecco qua. Ora con un battarello vado a stenderla e con un coppapasta inizio a realizzare le cerchi. Mi appoggio ovviamente su una teglia da forno e inizio a dare dei tagli a croce, cercando di non arrivare fino al fondo, vedete? E li piego le punte verso l'esterno. Ora con l'olio vado a spennellarli. Infine con i semini di papavero. Dove andrò a infornarli a forno caldo 220 gradi, fino a doratura. Eccoli qua. Sono buonissimi! Come on! Mensi di manual. Come on! Passare i mostri. Us! 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 Us!